Stylistic M532 di Fujitsu, l'ultimo nato, sarà rilasciato ufficialmente a giugno di quest'anno con il processore Tegra Quad-Core S30. La versione sarà con 2MTS integrato, Wi-Fi, Bluetooth, con il nuovo sistema operativo Android 4.0. Le porte sono la mini USB e la porta di alimentazione. Più naturalmente tutta la connettività Wi-Fi, MTS, Bluetooth, che si dice. La cosa interessante è che si rivolge al mercato prettamente professionale, infatti abbiamo già integrato nel sistema operativo client come Citrix, come ITAP o WMWR. E naturalmente tutta la parte è anche di protezione con Norton Internet Security, per la protezione appunto dei dati e delle reti aziendali. Allora, lo schermo è uno schermo a 10 pollici, il peso sono circa 550 grammi. La batteria ha una durata stimata di 9 ore, quindi è una durata ottimale. E naturalmente è personalizzabile a seconda delle varie impostazioni, con la rotazione, con l'unità automatica. Il prezzo è ancora da stabilire, sì, è un'anticipazione che dovrebbe essere intorno ai 500-600 euro i ve inclusa. E la disponibilità sarà da giugno 2012. Il prezzo è un'anticipazione che dovrebbe essere intorno ai 500-600 euro.